Quattro appuntamenti, tutti nella suggestiva cornice di Santa Maria della Pieve, nel cuore di Arezzo. L'associazione culturale Ars Nova ha presentato la seconda stagione di concerti, che quest'anno cambiano sede non più al Teatro Mecenate, che non è stato concesso all'associazione, ma nel pieno centro storico della città. Ars Nova è un'associazione che non si ferma. Siamo tanti, siamo determinati. Abbiamo trovato tanti ostacoli, ma non ci fermiamo e grazie alla magnanimità e alla sensibilità per l'estetica, per il bello e per l'arte di Donna Alvaro siamo in una sede ancora più bella di quella che non siamo riusciti ad avere. Mettiamo a servizio della città e del bello questo spazio meraviglioso che è la Pieve di Arezzo. La musica, in quanto ricerca del bello e di una dimensione particolare dell'uomo, ha sempre una sua sacralità. Il programma, targato Orchestra Regionale Toscana, si aprirà il 21 gennaio per chiudersi il 13 maggio 2020. Da Ceccherini a Sollima a Bursi, passando per la Peleggi, che è il volto femminile del calendario. Tra l'altro con un pezzo della Terra Nova che parla proprio di arte contemporanea, non da pre-rosco, quindi un esempio di espressionismo astratto coniugato in musica e declinato nella suggestiva cornicio della Pieve di Arezzo. Quindi tutto questo per fare una proposta culturale selezionata, ponderata prima con il direttore dell'orte e poi restituita così, targata Arsnova, alla cittadinanza di Arezzo attraverso la Pieve. Quindi un'area particolare, non musica in teatro, non musica in anfiteatro, ma musica in chiesa, anche se non è musica da chiesa, non è musica sacra. E' questo per quanto mi riguarda l'aspetto più interessante, cioè cercare di coniugare queste due dimensioni, quella civica e quella di un'altra area. Questo secondo me è l'aspetto ancora più contemporaneo.